E ancora a ricominciare. Stanotte ho avuto un incubo. Ero chiusa in una stanza, al buio. Volevo uscire, ma una forza misteriosa bloccava le mie gambe e mi tratteneva il respiro. Angoscia. Volevo urlare, ribellarmi, liberarmi. Nulla da fare. Mi sono svegliata. Ho pianto. Quel sogno mi rappresentava benissimo nel mio desiderio di superare il limite, di andare via, che non riesco a concretizzare. Speranza. Nel silenzio della notte ho ricordato che in quel film notturno mi ero librata in volo, abbandonando il mio corpo, ogni impedimento materiale. In volo, la mia anima mi si era rivelata più forte di qualsiasi ostacolo o paura. Capace di andare oltre quella stanza, oltre quella porta. Per riprendere ed esistere, a vivere, ad insistere, a ripetere, a far sentire la voce. Per ricominciare.